Da giugno cerchiamo di far capire all'ASP che ci sono delle falle che sono veramente pericolose e da giugno che non ci ascoltano. Ormai il sistema è in tilt e l'aumento di contagi è una conseguenza delle falle che noi abbiamo evidenziato in questi mesi. Il sistema di tracciamento saltato, strutture sanitarie al collasso, medici di base che oltre il loro lavoro ordinario devono anche occuparsi dell'inizio e della fine isolamento che è una cosa veramente ridicola e quindi è chiaro che i sindaci in questo momento sono veramente preoccupati anche perché nonostante il mio accesso agli atti ancora i dati ufficiali delle nostre strutture sanitarie per fortuna o purtroppo io direi non li abbiamo. È chiaro che dobbiamo cercare di evitare qualsiasi tipo di contatto e di proteggere i bambini soprattutto e gli studenti in una situazione che sta diventando allarmante e drammatica. Stiamo lavorando di gruppo, penso che sia la cosa più giusta, stiamo lavorando di gruppo, anche altri sindaci fuori dal distretto stamattina abbiamo avuto delle interlocuzioni importanti, stiamo lavorando di gruppo e stiamo cercando di capire che siamo in prima linea, siamo in trincea dall'anno scorso e ora i cittadini hanno bisogno di risposte serie e concrete. Ieri la Sicilia è stata la prima regione in Italia per numero di contagi e ancora continuiamo a fare degli errori che sono imperdonabili secondo me e oggi c'è la necessità oggi più che mai di misure preventive e precauzionali, non possiamo più scherzare.